Non c'è nulla di piccolo nella mia attività, né l'impegno che ci metto, né quello che spero di ottenere. Con una lista infinita di cose da fare, devo restare sempre connesso con ciò che conta di più, i miei clienti. È vero che non posso scegliere i miei orari, ma il tempo non basta mai. Devo sfruttare ogni secondo. Ecco perché sono produttivo anche mentre vado al lavoro, per fare questo devo poter accedere in ogni momento e in modo sicuro a tutte le mie informazioni. È la mia vita e deve funzionare. Perché il mio reparto IT sono io. Sono anche il responsabile dell'assistenza clienti, il capo delle risorse umane e ci siamo capiti. Quindi non ho il tempo di preoccuparmi della compatibilità. Devo essere certo che all'apertura saremo pronti. Ogni giorno. Che cosa alimenta il successo della mia piccola attività? Io. Con un piccolo aiuto da parte di qualcuno che mi capisce.